Non hanno mai mollato e adesso sono qui, pronti a raccogliere i frutti del proprio lavoro. Gioia incontenibile dei protagonisti, vincere la UEFA Champions League, roba per pochi eletti. Un traguardo da festeggiare, da cui ripartire. Sono scene da brividi, sono immagini bellissime, con i calciatori che si abbracciano quasi increduli, invece è tutto vero, sono proprio loro i campioni d'Europa.